La legge per l'autonomia differenziata è sul tavolo di Mattarella, il DDL è un provvedimento complesso e il Presidente della Repubblica si prenderà il giusto tempo per esaminarlo, la nota del Quirinale. Il provvedimento su cui l'opposizione fa le barricate agita anche la maggioranza, Forza Italia ha le prese con i malumori dei suoi governatori al sud, alle 15 la chiusura dei seggi negli oltre 100 comuni in cui si vota per i ballottaggi, riflettori puntati soprattutto su Firenze e Bari. Prima di assumere la guida del semestre di Presidenza europea, il primo ministro inglese Orban è atteso oggi a Roma, prima tappa di un mini tour tra Italia, Germania e Francia. Sullo sfondo la partita per la scelta dei vertici comunitari, tra Orban e Meloni restano le distanze negli equilibri sulle figure chiave e per un bis di von der Leyen, Tajani chiude ai Verdi. A Lussemburgo la riunione dei ministri degli esteri dell'Unione europea sul tavolo, i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Oltre alla situazione di Gaza preoccupa la possibile escalation nel sud del Libano sul fronte ucraino, varato il 14esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca che minaccia conseguenze per l'attacco di ieri a Sebastopoli condotto con armi fornite dagli Stati Uniti. Intanto salgono a 19 le vittime degli attentati in Dagestan. Due minorenni fermati per l'omicidio del 17enne trovato ieri sera in un parco al centro di Pescara. Sono il figlio di un avvocato ed è il comandante di una stazione dei Carabinieri. Tra le prime ipotesi quella di una lite per motivi di droga. Dopo il delitto i presunti assassini sarebbero andati a fare il bagno al mare sbarazzandosi del coltello, forse da sub, con il quale avrebbero colpito a morte il coetaneo. Una buona giornata, una buona settimana dal telegiornale della SET, una giornata importante sotto diversi aspetti. Chiuderemo anche con l'aspetto sportivo perché torna in campo l'Italia ma cominciamo da quello politico perché è una settimana dall'agenda fitta per quel che riguarda l'attività del governo. E soprattutto anche una giornata, quella di oggi, ancora di attesa perché si parla di autonomia differenziata. C'è l'esame molto accurato da parte del Colle, il Presidente della Repubblica, che deve esaminare una legge che è molto complessa e soprattutto potenzialmente ha un impatto molto forte anche sulle nostre finanze pubbliche. Questa è la prima delle partite che in prima persona la Premier Meloni giocherà nelle prossime ore. Cominciamo da qui. Il Presidente dedicherà alla legge lo stesso scrupolo e la stessa attenzione riservata a ogni altro provvedimento. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata è un provvedimento complesso e il Presidente della Repubblica si prenderà il giusto tempo per esaminarlo. Se c'era bisogno di una sottolineatura sullo scrupolo di Mattarella nel passare ai raggi X le leggi che arrivano sulla sua scrivania per dare poi il proprio vallo, quella è arrivata puntuale ieri dal Quirinale. Messaggio ai naviganti per ribadire che per il DDL Calderoli si userà sempre lo stesso metro, ma la valutazione sul testo potrebbe non essere velocissima vista la complessità della materia. Complicato che il Presidente della Repubblica possa secondare le richieste del Movimento 5 Stelle che nei giorni scorsi gli aveva chiesto di non firmare il provvedimento, esercitando la sua prerogativa costituzionale di rinvio presidenziale di cui all'articolo 74 della Costituzione. Confido nel Capo dello Stato, garante di una Costituzione, ma sia chiaro che questo è l'ultimo treno che passa per l'Italia. Il modello centralista ci ha portato al disastro che viviamo, ha fallito, dichiara in un'intervista a Repubblica il Governatore del Veneto, Luca Zaia. Il DDL però sta creando problemi dentro la maggioranza e in particolar modo Forza Italia. In difficoltà è il segretario Antonio Tagliani alle prese con la rivolta dei suoi al sud, che cerca di riassicurare proponendo l'istituzione di un osservatorio sulle regioni. Il Partito Democratico ha annunciato un ricorso alla consulta e l'avvio dell'Iter per chiedere un referendum costituzionale contro una riforma che per il Nazareno aumenterà le distanze tra un nord sempre più ricco e un sud sempre più povero. Ma i temi divisivi in questa fase non mancano. Oggi arriva alla Camera per il via libera definitivo il DDL nordio sull'abolizione dell'abuso d'ufficio. Tra i punti principali della misura anche un ridimensionamento del perimetro del traffico di influenze illecite e un giro di vite sulla pubblicazione delle intercettazioni. Il testo, varato in Consiglio dei Ministri oltre un anno fa, dopo l'ok di Palazzo Madama, con il sostegno di Tel Aviv e Azione, arriva oggi a Montecitorio. Da registrare la presa di posizione del presidente dell'anticorruzione Giuseppe Busia, preoccupato dall'approvazione del DDL. Con il via libera al provvedimento si creerà un vuoto normativo. I sindaci non devono aver paura della firma, ma servono leggi chiare e strumenti adeguati per i comuni. Allora andiamo avanti, innanzitutto vi aggiorno su quello che sta succedendo dal punto di vista politico. Giornata anche di Consiglio dei Ministri che ha approvato poco fa il decreto legge contenente in particolare misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradi sismico nell'area dei campi flegrei. Lo ha annunciato il Ministro della Protezione Civile e le politiche del mare, Musumeci, la conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine della riunione del Consiglio dei Ministri che è in corso. Un appuntamento già previsto, rispettato nei tempi, ha sottolineato Musumeci. Aggiorno con voi le parole del Ministro, in particolare i numeri. Stanziati 440 milioni per interventi pubblici in quell'area. E poi vi dicevo l'attesa, che non è solo l'attesa per l'esame del Colle sull'autonomia differenziata, ma anche l'attesa per i risultati delle amministrative. Il turno dei ballottaggi chiudono alle 15, dunque tra poco più di un'ora i seggi per il secondo turno di questo voto amministrativo con 105 comuni coinvolti. Le sfide principali sono a Firenze, Bari, Perugia, Potenza, Campobasso e Lecce. In tutto sono 14 capoluoghi chiamati a scegliere il sindaco. Gli altri sono Avellino, Caltanissetta, Cremona, Rovigo, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valencia. Poi sull'esito del voto potrebbe comunque, come sempre, pesare anche il dato dell'affluenza in netto calo rispetto al primo turno. L'ultimo rilevato, come sempre, è quello di ieri sera alle 23, al 37%, circa 16 punti in meno, dunque, rispetto al primo turno. A proposito di agenda fissa, c'è anche un capitolo che riguarda naturalmente quello che succederà in settimana, la partita decisiva che riguarda le nomine ai vertici dell'Unione, una partita che, dicevamo, la nostra Presidente del Consiglio gioca in prima persona equilibri tutti da ridefinire, anche il ruolo dell'Italia rispetto ai vertici dell'Unione è un faccia a faccia importante nel pomeriggio di oggi. Il percorso d'avvicinamento di Meloni al Consiglio europeo di Gioveni inizia oggi pomeriggio alle 18 e in programma il faccia a faccia con il premier ungherese Viktor Orban. Primo appuntamento già decisivo nell'ampia partita delle alleanze in vista delle nomine della nuova Commissione europea. I segnali arrivati dai popolari nel fine settimana sono inequivocabili. Giorgia Meloni deve scegliere da che parte stare. Lo schema al momento rimane quello che prevede von der Leyen, confermata Presidente della Commissione europea, il portoghese socialista Costa alla presidenza del Consiglio dell'Unione. Avrebbe l'appoggio dei popolari, dei socialisti e dei liberali, con una maggioranza risicata però. Ecco allora che proprio in queste ore si sta giocando la partita decisiva delle alleanze. Meloni, che è Presidente dei Conservatori europei, che vuole fare? Cosa dirà Orban su un suo possibile ingresso nel gruppo? Atlantismo e rafforzamento nella protezione delle frontiere esterne dell'Unione sono una priorità alle parole chiare di Manfred Weber, leader dei popolari europei, in piena sintonia con quelle di Antonio Tajani, promotore dell'apertura ai conservatori in Europa, in alternativa ai Verdi. Direzione che però non piace a Donald Tusk, premier polacco, per due motivi. Meloni è alleata con il PIS, i conservatori polacchi, i suoi rivali interni. Meloni dialoga con Orban, il principale riferimento in Europa di Vladimir Putin. Quindi stop ai conservatori nel gruppo, ci sono oltre ai polacchi del PIS anche l'estrema destra spagnola di Vox. L'alternativa per allargare la maggioranza è il dialogo con i Verdi. Siamo pronti a votare von der Leyen, dice oggi Bas Eikot, il leader olandese degli ambientalisti, intervistato dal Quotidiano domani. Ribaltamento che andrebbe bene ai socialisti e ai liberali, non ai popolari. Ecco allora che la partita delle alleanze si fa sempre più complicata, come quella sui commissari. In prima fila per l'Italia rimane il nome di Raffaele Fitto in corsa per un ruolo nella Commissione europea come anche possibile vice della von der Leyen. Mercoledì la Presidente del Consiglio Meloni riferirà in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Stamattina il Consiglio dei Ministri ha avviato la procedura per chiedere il pagamento della sesta rata del PNRR da 8,5 miliardi di euro. Siamo i primi a richiederla in Europa, la soddisfazione di Meloni che ha ringraziato proprio il Ministro Fitto. Tutto questo con una tensione internazionale crescente, un nuovo teatro anche di violenze e attacchi. Ci arriveremo, cominciamo dalla situazione del conflitto in Ucraina e quei missili ucraini deviati dalla contraerea che hanno colpito lacrime. Non si è fatta attendere ed è stata come sempre durissima la risposta del Kremlin nei confronti dell'Uccidente e in particolare degli Stati Uniti. Ci saranno conseguenze per l'attacco di ieri a Sebastopoli condotto con armi fornite dagli Stati Uniti. Il portavoce del Kremlin minaccia apertamente Washington e invita i giornalisti a chiedere ai colleghi occidentali perché i loro governi uccidono i bambini russi. Sappiamo molto bene chi c'è dietro ad attacchi come quello compiuto ieri sulla Crimea con missili Atakams e chi punta sui bersagli. Questi ordigni tecnicamente molto complessi, ha concluso Peskov. Mosca, insomma, giudica equamente responsabili Washington e Kiev per il raid che ieri ha ucciso cinque persone, tra cui tre minori, e ne ha ferite 150 su una spiaggia affollata di Sebastopoli in una domenica estiva. E stamattina l'ambasciatrice statunitense è stata convocata al Ministero degli Esteri e le è stato detto che per Mosca gli Stati Uniti sono diventati parte del conflitto. Parole che portano l'attenzione tra le due superpotenze a livelli altissimi, in una fase della guerra in cui l'Ucraina, grazie agli aiuti occidentali, riesce a difendersi meglio e per quanto possibile a limitare le vittime civili, che comunque continuano ad esserci ogni giorno, come ieri a Kharkiv, seconda città del paese, che resta sotto pressione. Zelensky non a casa ha sottolineato la necessità di avere una moderna difesa aerea, aviazione da combattimento e armi a lungo raggio per colpire le basi da cui la Russia bombarda l'Ucraina ormai. Da 28 mesi. Aiuti che continueranno ad arrivare ha garantito oggi il capo della diplomazia dell'Unione Europea, arrivando al Consiglio degli Affari Esteri in Lussemburgo. Il 14esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca è stato approvato, ha spiegato Borrell. Presto Kiev avrà la prima tranche da 1,4 miliardi degli extra profitti derivanti dagli asset russi congelati. Abbiamo lo strumento legale che ci consente di aggirare il blocco fin qui esercitato dall'Ungheria. Kiev, ha concluso Borrell, ha bisogno di sostegno ora, anche perché Putin si prepara a una lunga guerra e si sta muovendo per procurarsi le armi che gli servono, come dimostra il suo recente viaggio in Corea del Nord. E poi vi dicevo che c'è quel nuovo teatro di conflitto e di violenza. Ancora una volta il Dagestan, un bilancio che si aggrava, sono 19 le vittime di quel triplice attacco, a quanto pare davvero coordinato, diversi luoghi di culto colpiti, anche un posto di sicurezza. Le persone che quella sicurezza hanno provato a garantirla, in molti casi hanno perso la vita. E dunque questo è un paese, l'ex Repubblica Sovietica, maggioranza musulmana, con una spinta estremista e crescente che torna nelle preoccupazioni anche della comunità internazionale. Osman e Adi erano i figli di Magomed Omarov, capo del distretto centrale del Dagestan, arrestato all'alba i due giovani uccisi dalle forze speciali della Repubblica Caucasica della Federazione Russa, facevano parte del gruppo armato che ieri a Derbente e Makashkala, le due città principali, hanno compiuto l'attacco alla Cattedrale Ortodossa, alla sinagoga principale e a un posto di polizia. 19 le vittime, 15 agenti e 4 civili, tra cui l'anziano cappellano della Chiesa Cristiana più i 6 membri del commando. Entrambi gli edifici di Derbente sono stati incendiati e la caccia ai terroristi è andata avanti nella notte con diversi scontri a fuoco. Sergei Melikov, attuale presidente del governo locale, oggi ha visitato i luoghi colpiti e proclamando tre giorni di lutto ha dichiarato il cessato allarme. Sappiamo chi si nasconde dietro questi attentati e quale obiettivo perseguono, ha dichiarato l'ex comandante delle forze russe nel Caucaso settentrionale, vogliono destabilizzare il paese innescando una guerra interreligiosa. Ieri si celebrava la Pentecoste Ortodossa, festività molto sentita nella Chiesa Orientale, ma cadeva anche il primo anniversario della fallita rivolta militare del capo dei mercenari Wagner, Prigojin. Le indagini puntano sulle cellule dormienti dell'integralismo islamico dell'area che affaccia sul Mar Caspio. Ad aprile in Dagestan il Servizio di Sicurezza Federale aveva già arrestato quattro persone sospettate di aver pianificato l'attacco mortale alla sala concerti Crocus City Hall di Mosca, ma numerosi militanti della Repubblica Caucasica nel 2015 si erano uniti in Siria alle forze dell'Isis e secondo fonti di intelligence occidentale ad aver compiuto gli attacchi di ieri sarebbe stata la fazione Vilayat-Kavkaz. La società russa è assolutamente consolidata, non c'è il pericolo di un ritorno al terrorismo islamico, ha detto stamane il portavoce del cremino Pieskov. E a Mosca è arrivata subito la solidarietà di Pechino e Teheran. Il Dagestan per il 90% è di fede islamica, maggioranza sunnita, ma ospita da secoli una trentina di etnie diverse, russe, turche, persiane ed azzere e storicamente è la terra d'origine della comunità ebraica dei Dagat Kufut. Nell'ottobre dell'anno scorso all'aeroporto di Makashkala si scatenò una vera e propria caccia all'uomo contro i viaggiatori sbarcati da un aereo proveniente da Tel Aviv. Poi ci sono gli ultimi aggiornamenti sul conflitto in Medio Oriente per utilizzare le parole dell'alto rappresentante Borrell. Alle spalle ci siamo messi uno dei weekend più sanguinosi per quel che riguarda l'intensità degli attacchi, la situazione lungo la striscia di Gaza definita da Borrell senza speranza che la società civica è stata distrutta, gli aiuti non arrivano, quelli che arrivano non possono essere distribuiti. Questo è lo stretto percorso che ci porta a questo nuovo lunedì di guerra. Missili di Hezbollah sulla città israeliana di confine di Metulla con due riservisti feriti raid delle IDF contro obiettivi del partito di Dio nel sud del Libano. Una situazione più che preoccupante l'ha definita la ministra degli esteri tedesca Baerbock attesa per questa sera in Israele. Il rischio che questa guerra colpisca il sud del Libano è si diffonda e ogni giorno più grande ha dichiarato nello stesso contesto cioè la riunione dei ministri degli esteri dei 27 a Lussemburgo l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Borrell. Speriamo in una soluzione diplomatica ma ci stiamo preparando alla possibilità che non si trovi ha affermato ieri sera a Channel 14 il premier Netanyahu aggiungendo che il governo intenderì di spiegare alcune forze al nord e che Israele è preparato a lottare su più fronti e ancora l'obiettivo è allontanare fisicamente Hezbollah dal confine in modo da riportare i residenti del nord nelle loro case e l'incertezza dunque a farla da padrona mentre nella striscia i raid dell'IDF proseguono senza sosta e la catastrofe umanitaria è ormai una realtà permanente caratterizzata secondo Borrell dall'impossibilità di assistenza e dunque di fare entrare aiuti anche se almeno per la prima volta dal 7 ottobre Israele ha consentito ad un gruppo di bambini seriamente malati di uscire dal balico di Kerem Shalom nelle ultime settimane la pressione maggiore dell'esercito dello stato ebraico è stata sul Rafah dove ora la fase degli intensi combattimenti parole sempre di Netanyahu si sta esaurendo i negoziati tuttavia restano in alto mare il premier israeliano si è detto disponibile ad un accordo parziale in cambio del rilascio di un certo numero di ostaggi ma non ad un cessate il fuoco permanente quello che invece chiede Hamas la cui distruzione resta l'obiettivo primario di Israele Netanyahu sta abbandonando 120 ostaggi e danneggia il dovere morale dello stato di Israele nei confronti dei suoi cittadini lo accusa il forum delle famiglie mentre dilagano le proteste per chiederne le dimissioni tutto questo mentre il ministro della difesa Gallant è in missione negli Stati Uniti forniture di armi Libano situazione a Gaza questi gli argomenti che verranno affrontati nel tentativo di superare le sempre maggiori tensioni con l'amministrazione Biden allora adesso andiamo alla cronaca diverse notizie in questa giornata cominciamo dalla storia che si sta definendo che arriva da Pescara dal centro di Pescara dove è stato ritrovato il corpo di un minorenne sono partite le indagini e sono stati fermati altri due ragazzi anche loro giovanissimi la storia dovrebbe essere quella legata alla distribuzione allo spaccio di droga ma ci sono tanti dettagli che fanno rapprevidire innanzitutto l'età dei ragazzi coinvolti ma anche la dinamica di quello che è successo e soprattutto quello che dopo i due presunti colpevoli avrebbero fatto il corpo senza vita è stato trovato nella tarda serata di ieri la vittima a 16 anni era tra l'esterpaglia nel parco pubblico Baden Powell nel pieno centro di Pescara era stato ucciso ore prima con diverse coltellate e abbandonato lì inutili tentativi dei sanitari di salvarlo hanno solo potuto accertarne la morte i segni lasciati sul corpo rivelano i colpi di una lama dentellata simile a quella di un coltello da sub la polizia che sta indagando ha fermato stamattina due giovani entrambi minorenni con i quali la vittima avrebbe avuto un litigio ieri pomeriggio lo avrebbero attirato in una trappola in una zona poco frequentata a loro gli investigatori sono arrivati grazie a diverse testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona dopo l'omicidio sarebbero andate a farsi un bagno al mare lì si sarebbero liberati del coltello che una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco sta ancora cercando è un caso delicatissimo dicono subito gli inquirenti che lavorano con il procuratore capo Giuseppe Bellelli e che pesano ogni parola dei due fermati uno è figlio di un maresciallo di una stazione dei carabinieri della provincia di Pescara l'altro di un notissimo avvocato il movente del delitto che coinvolge tutti i minorenni potrebbe essere legato a questioni di droga il campetto che si trova a ridosso della ferrovia alle spalle del parco Baden Powell è un punto d'incontro per acquirenti di droghe leggere spacciatori che poi vanno a consumare soprattutto ascisce nel parco passando attraverso una rete di recensione tagliata in più punti un giro di stupefacenti affidato per la vendita soprattutto a minorenni gang che si contendono le piazze di spaccio della cittadina forse tra i motivi del litigio potrebbe esserci un debito da poche centinaia di euro gli inquirenti scrivono la drammatica vicenda ha evidenziato un incredibile disagio giovanile una sorprendente carenza di empatia emotiva ed una palese incapacità di comprendere l'estremo disvalore delle azioni commesse ancora la cronaca la scorsa notte a Fano sono stati uccisi nella loro abitazione due anziani conugi l'uomo di 75 anni è morto per un violento colpo alla testa dopo aver a quanto pare tentato a lungo di difendersi la moglie di 70 anni invece stata soffocata a dare l'allarme è stato il figlio che abita al piano di sopra dopo diverse telefonate andate a vuoto sono così intervenuti i vigili del fuoco che per entrare nell'abitazione hanno dovuto sfondare la porta il figlio in questo momento è ancora sotto interrogatorio si dice estraneo ai fatti oggi la coppia avrebbe dovuto lasciare la casa venduta all'asta per i debiti accumulati proprio dal figlio allora andiamo ancora alla vicenda che vi abbiamo raccontato sotto diversi aspetti di Satman Singh quella bracciante che è stato lasciato morire nelle campagne di Latina dopo aver lavorato ed essere rimasto ferito arrivano le prime conferme dall'autopsia arriva ancora una mobilitazione che domani coinvolgerà la comunità indiana nel Lazio e soprattutto ci sono ancora le indagini in corso dopo la manifestazione della CGL l'altro ieri a Latina domani per la comunità indiana sciopero di otto ore e corteo stavolta organizzano Cisle Will e lo slogan è un'azione a tutto campo per la legalità e il lavoro agricolo dignitoso ma a cosa serve una manifestazione uno sciopero intanto serve a dire che Satnam non è morto da solo che c'è un proseguo in questa battaglia fondamentale a dire le istituzioni che devono fare il loro dovere a dire alla politica che deve smetterla di parlare di sostituzione etnica o che i poveri mangiano meglio dei ricchi bisogna ricostruire un quadro democratico molto più profondo e ancorato alla realtà dei fatti oggi i SIC dell'agropontino sono tornati diligentemente nei campi molti nella legalità molti altri nello sfruttamento gli agricoltori abituati ad avvalersi di manodopera in nero sanno di avere tutti gli occhi addosso e corrono ai ripari allontanano i caporali mettono in regola i braccianti sperando che dopo la cerimonia funebre per Satnam Singh ancora non fissata dopo gli sviluppi che arriveranno dalle attività di procura e carabinieri tutto torni come prima con lo sfruttamento noto ovunque eppure tollerato la tragedia del ragazzo fatto morire in quel modo disumano qui sconvolge ma non stupisce le violazioni dei diritti nei campi e nelle serre in provincia di Latina sono sistematiche ma difficilmente vengono perseguite perché chi subisce sta zitto per il terrore di ritorsioni alcuni imprenditori qui considerano i loro operai proprietà privata minacciano picchiano bastonano incendiano forse la tragedia di Satnam spingerà qualcuno a seguire l'esempio di due indiani coraggiosi Balrai ha denunciato i padroni che durante il covid dopo la richiesta di avere una mascherina lo hanno massacrato di botte e gettato in un canale Balbir ha denunciato padre e figlia di Borgo Sabotino ora condannati in primo grado a 5 anni e un anno gli davano 400 euro al mese per faticare per 11 ore al giorno 7 giorni su 7 vivendo come un animale oggi Balbir vive sereno a Pontini a vicino Sabaudia con un permesso di soggiorno avuto per motivi di giustizia andiamo avanti adesso torniamo a parlare dell'inchiesta che ha travolto la Liguria dal punto di vista politico inchiesta ancora in corso e questa rispetto a tutte le altre giornate dal 7 maggio in poi è stata una mattinata diversa per il governatore della Liguria Toti non era mai successo che un politico in questo caso un presidente di regione al secondo mandato facesse una riunione di governo nella sua villa agli arresti domiciliari Giovanni Toti è rinchiuso ad Amelia vicino alla Spezia da un mese e 17 giorni con l'accusa di corruzione il giudice ha respinto la sua richiesta di ritorno in libertà perché sostiene ancora in carica potrebbe reiterare il reato o inquinare le prove ma ha autorizzato alcuni incontri politici il primo per massimo tre ore con i finanzieri fuori dalla porta è stamattina con tre colleghi di giunta sono il vicepresidente che ha preso l'interim della regione Alessandro Piana e gli assessori ai lavori pubblici e all'urbanistica due fedelissimi Marco Scaiola e Giacomo Giampedrone Toti ha già fatto sapere che non intende dimettersi ma per la giunta si avvicina una serie di scadenze decisive intanto la manovra di bilancio è possibile continuare ad amministrare una regione dal chiuso degli arresti domiciliari all'incontro di oggi è stato ammesso anche l'avvocato del governatore Stefano Savi che la scorsa settimana ha fatto ricorso al tribunale del riesame contro la bocciatura della revoca dei domiciliari Toti insieme con il legale pur confermando il suo punto di vista di aver agito nella legalità e nell'interesse pubblico senza farsi influenzare dai soldi ricevuti dagli imprenditori ha spiegato che rinuncerà prossimamente ai finanziamenti dei privati in vista delle elezioni la campagna elettorale per le regionali del 2025 è una cena di sostegno economico per la quale si era già mosso anche il coindagato imprenditore Aldo Spinelli sono state proprio uno dei motivi per cui il giudice ha mantenuto la misura dei domiciliari lo stesso Spinelli intanto ha presentato ai magistrati istanza di revoca dei domiciliari sostenendo che ormai tutti gli interrogatori sono stati tenuti e che non ricopre più cariche nel suo gruppo una notizia che riguarda ancora Marco Cappato tesoriere dell'associazione Luca Coscioni che si era autodenunciato nel 2022 per aver accompagnato al suicidio assistito in una clinica svizzera un uomo e una donna gravemente malati oggi il giudice per le indagini preliminari di Milano ha trasmesso quel fascicolo a Roma alla Corte Costituzionale per valutare la legittimità e il perimetro del reato di aiuto al suicidio la procura lo ricordiamo aveva chiesto l'archiviazione all'anteprima Vittorio Russo redazione digitale buongiorno e buona settimana a te grazie Cristina buongiorno a tutti noi parleremo ancora dell'attacco nel Dagestan e poi video virali uno in particolare che ha come protagonista l'ex presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump e infine una delle notizie più cliccate anche su Google la nuova gaff del ministro della cultura Gennaro San Giuliano Allora tempo della pubblicità e torniamo in diretta non mancate Di nuovo insieme seconda parte del telegiornale di nuovo alla linea Vittorio Russo a te Vittorio Di nuovo grazie Cristina bentornati allora l'avete sentito visto durante il telegiornale l'attacco a una chiesa e una sinagoga nel Dagestan la repubblica della Russia più meridionale sono finora 19 i morti e quello che ora vi mostro è il commento all'attacco da parte del governatore Melikov che lancia un'accusa ben precisa ascoltiamo l'attacco Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.